Le dimissioni le rassegno perché ho rispetto della città innanzitutto, della quale ho sempre avuto la piena stima, credo di averne la conferma, ma soprattutto rispetto dell'amministrazione, dei colleghi di giunta, perché il solo fatto che ci sia un dubbio che ancora legge sulla mia persona mi impone di rassegnare queste dimissioni. Non certo perché me lo chiedono gli avversari politici, ci sarebbero ben altri motivi per chiedere le mie dimissioni e sarebbe stato più corretto a didarmi di incompetenza professionale, amministrativa, ma non certamente chiedere dimissioni per questo motivo. Le rassegno solo per rispetto della città. Mi dimetto per rispetto della città tutta del sindaco e dei miei colleghi di giunta. Lo ha detto questa mattina l'assessore al commercio della giunta municipale di Nocera Inferiore, Andrea Vagito, finito al centro di una campagna mediatica che lo ha messo all'agogna dopo il filmato ripreso dalle telecamere in località San Mauro, filmato che appunto attesta come dalla sua auto siano stati sversati illecitamente dei rifiuti. È in possesso, ha detto Vagito, dei fotogrammi e del video integrale che testimonia come sia veritiera la sua versione dei fatti, cioè che in quel momento la sua auto personale l'aveva prestata ad un amico, un amico di cui tutela l'immagine per dovere di privacy. Nel frattempo va avanti e attende le decisioni del sindaco nelle cui mani ha rimesso il mandato, decisioni che dice saranno però imbarazzanti e dolorose. La spazzatura non l'ho buttata io, si vede chiaramente dal video e dalle immagini che sono in mio possesso e che ho provveduto ad estrapolare dal server della polizia municipale, tuttavia questo chiarimento non è servito ai miei avversari politici per mettere a tacere questa vicenda. Sono arrivati addirittura a chiedere le dimissioni perché sono stato leggero nel non verificare a chi avevo prestato la macchina e cosa quella persona avrebbe fatto con quella macchina. Se siamo a questo penso che siamo veramente alla frutta. Il problema non è chi ha commesso questa violazione, avrei potuto commetterla pure io, io non mi sono mai nascosto dietro un dito. Forse avrò commesso tante altre violazioni come penso chiunque di quelli che oggi mi accusano. Con la differenza che io l'ho sempre ammesso mi sono sempre assunto le responsabilità di quello che ho fatto. Quello che mi dispiace e mi amareggia veramente è lo sciacallaggio che si è creato attorno a tutta questa vicenda. Forse i grillini sono stati quelli che apertamente hanno avuto almeno il coraggio di chiederle, altri hanno chiesto di visionare per avere più chiara la vicenda, qualcun altro ha parlato di etica, di morale che sarebbe stata infranta. Forse i grillini sono quelli che più di tutti hanno la mia stima perché quantomeno hanno avuto il coraggio di chiedere le mie dimissioni, benché ritengo che sia assolutamente sproporzionato. Tuttavia le mie dimissioni oggi saranno rassegnate nelle mani del sindaco il quale deciderà con la piena serenità di giudizio alla luce di tutti quelli che sono gli elementi che abbiamo raccolto se rimuovermi dall'incarico o meno.